e la ragione per la quale vengo sempre con piacere in Messico nonostante mi abbia portato sfortuna portato a mala suerte perché sono venuto a un viaggio di nozze con mia moglie e sono ancora sposato con mia moglie quindi una sfortuna quella luna di miele ma io per esempio ho dedicato molto tempo alla Baja California ho visto a Tijuana come Tijuana è migliorata e lo stesso voi sapete come eravate vent'anni fa quando la cara vent'anni fa non era quella di oggi avete fatto passi avanti la realtà di Guadalajara vent'anni fa era una brutta realtà oggi è una realtà avanzata però ancora non utilizzate tutte le risorse che avete ecco io credo che sia questo il messaggio e voglio ringraziarvi per la vostra attenzione e dirvi con molta semplicità che ho molta fame e vorrei andare a cenare e vorrei andare a cenare grazie penso che anche voi avete molta fame la cattedra Giulio Cortázar agradece al licenciato José Ramírez per la presentazione e al doctor Leo Luca Orlando per questa lezione muestra brillante di coherenza e valore grazie a tutti per la presentazione buona notte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti